Musica Dopo il pacco bomba, un giornalista della stampa che seguiva la TAV, il procuratore Caselli avverte il rischio è grave, si tratta di un escalation di violenza. Musica Buongiorno gentili telespettatori del telegiornale del Piemonte, poteva esplodere e uccidere il pacco bomba inviato alla sede torinese del quotidiano La Stampa, il destinatario, un giornalista che da tempo segue quanto sta accadendo in Valsusa intorno alla TAV, il servizio di Laura De Donato. L'ultima volta che Massimo Numa si era occupato di TAV è stato proprio l'altro ieri a proposito dell'ultimo incendio alla ditta Geomont che lavora al cantiere della Torino-Lione. I 120 grammi di polvere contenuti in un hard disk sarebbero potuti esplodere se prima di collegare la memoria al computer con il cavo USB il giornalista non avesse consultato la polizia. La Stampa affida i commenti a un editoriale, parla di clima da anni di piombo e, come allora, del bisogno che fra chi si oppone legittimamente al TAV non ci siano ambiguità. Ma sul sito del movimento l'ennesima dissociazione, pallottole e bombe non ci appartengono, scrivono i militanti no TAV, e poi un attacco contro lo stesso Numa. Fatti come questo, si legge, non ci impediscono di sottolineare lo squallido lavoro che lo stesso cronista Massimo Numa porta avanti in favore di interessi mafiosi e corrotti. Quali sono quelli del progetto TAV Torino-Lione? È un episodio molto grave che segna un salto di qualità ulteriore rispetto alle minacce, all'intimidazione e agli episodi di violenza che già abbiamo conosciuto in questi mesi. È della dimostrazione che bisogna assolutamente che tutti facciano loro parte nel contrastare ogni forma di violenza perché questo non è accettabile, mette in discussione la convivenza civile. Si possono avere le opinioni che si vogliono, si può condividere la TAV o anche non volerla, ma lo si può fare con mezzi pacifici. Non è accettabile che un dissenso si trasformi in forme di minaccia, di violenza, di intimidazione e tutti abbiamo il dovere di respingerla e di contrastarla. E dopo il pacco bomba il procuratore della Repubblica Giancarlo Caselli avverte un fatto grave e poi aggiunge bisogna prendere le distanze dai violenti. Lo ha intervistato per noi Franca De Paoli. 120 grammi di esplosivo rappresentano un escalation. Il fatto è indiscutibilmente di speciale gravità. Un ordigno sofisticato, assai pericoloso. Se fosse effettivamente esploso e c'erano tutte le condizioni perché ciò avvenisse, i danni avrebbero potuto essere anche irreparabili. C'è un movimento formato da persone per benissimo, ma alcune componenti del movimento sono tutt'altro che per bene. Sono criminali e stanno diffondendo un messaggio e operando di conseguenza, messaggio secondo il quale chi tocca certi fili rischia e rischia grosso. Quindi il rinforzo delle forze dell'ordine in Valsusa è benvenuto? Ma tutto ciò che serve a fronteggiare, naturalmente nel perimetro della democrazia, che è un perimetro costantemente rispettato, una minaccia che è anche di carattere versivo, inutile nasconderselo, inutile giocare con le parole, è benvenuto. Ma più che o insieme alla risposta di ordine pubblico serve la risposta culturale, la risposta politica. Basta con le incertezze e con le ambiguità. Chi dice no alla violenza deve dire no e basta, non un no seguito da questo o quell'altro distinguo. Questo è, ripeto, pericoloso, può alimentare certe tentazioni. Le minacce, le violenze e gli attentati contro l'informazione sono un'arma da sempre impugnata dai dittatori e dagli estremisti di ogni colore, intollerabile tanto più in una democrazia. Se l'atto vigliacco è stato partorito nell'ambito dell'opposizione alla linea Tave è ancora più urgente che il movimento prenda le distanze da questo agguato. Così il presidente dell'ordine dei giornalisti del Piemonte, Alberto Sinigaglia, e l'associazione stampa Subalpine, il sindacato dei giornalisti, si esprime solidarietà al collega della stampa Massimo Numa e a tutta la redazione del Quotidiano. Si tratta purtroppo della conferma degli allarmi lanciati nelle scorse settimane anche dal sindacato, sostiene il segretario Stefano Tallia, in merito all'aggravarsi del clima con cui devono misurarsi i giornalisti impegnati nel racconto della questione Tave. E parliamo ancora di Tave, la commissione bilancio della Camera ha bocciato per mancanza di copertura finanziaria l'emendamento della maggioranza che prevedeva la tutela delle imprese che lavorano nel cantiere Tave di Chiomonte.